Il pallone 17 ed è sempre consultabile sul nostro sito, ma prima di... Tra i quali c'è tanta gente di primissimo ordine, forse ne di secondo, di terzo, certo, come era su città italiana. Oggi si usa molto questa fase, l'informazione manipolata. Come si fa secondo te a manipolare l'informazione? Si dice questo, si fa proprio... Prima, andai, vieni qua. La tua madre ti ha detto quando avevi cinque anni, non si devono dire così, e allora dipende dall'abilità. C'è chi le racconta meglio, c'è chi le racconta peggio. Però i fatti hanno una logica identità. E tutto, qualcuno ha detto, i nostri altri ci seguono. Per qualcuno si rivolgono, non sono decine di milioni di imbecilli, sono il tuo prossimo. Dal quale tu vieni fuori, lo devi rispettare. Una cascata di croccanti nocciole, mandorle e macadamica. Il cioccolato.